Eccoci! Oggi giochiamo agli orrori nell'orto. Guardate bambini, guardate il cartellone, quante cose strane! Una pianta pizza, un albero con tutte le cose di sport. Allora, questo gioco è molto semplice. Ci sono le pedine e c'è un percorso fatto solo di colori blu, verdi e rossi. Allora, quando si capita su un blu, si prende una carta blu e così via. Si lancia il dado e si inizia. Le carte blu sono tante e diverse. C'è questa sulla memoria di lavoro, c'è lo spelling e ci sono le incongruenze, dove bisogna trovare la frase che non c'entra niente. Le carte verdi sono molto divertenti. Ci sono i pasticci del signor Spezzettini, quelli della signora Fusetti. Bisogna cambiare una lettera e capire se la parola può esistere oppure no? E poi stare attenti quando ci sono delle parole importanti. Oppure contare gli errori. Le carte rosse invece? Ah, qua troviamo gli scioglilingua più strani come questo. Sul tagliere taglia l'aglio, non tagliare la tovaglia. Bisogna ripeterlo ben cinque volte. Oppure questo, che bisogna scrivere con il corpo una parola segreta. O anche gli scioglidita e tanti altri giochi divertenti da fare tutti insieme in compagnia. Ciao!